ciao a tutti amici e amiche di quinta dimensione lettore oggi facciamo un altro contenuto per voi molto importante dell'arcangelo metatron qui sotto abbiamo il cubo sacro di metatron che fa parte della geometria sacra con il quale possiamo meditare possiamo metterlo in camera appeso sotto qualche oggetto e mettere sopra per esempio la pietra la pietra dell'arcangelo metatron è la pietra tormalina anguria che non è così facilissima proprio sempre da reperire come aspetta che ve la metto vicino come proprio diciamo le altre tipo un classico quarsoglialino una metista questa è un pochino più particolare come vedete si chiama anguria perché è fatta da delle pietre veri delle pietre diciamo rosa scuro no come l'anguria praticamente come l'anguria vedete eccola qua allora adesso facciamo il mantra che diciamo si chiama mantra dell'abbondanza però è un mantra anche potente molto per altre cose va bene perché vi fa rilasciare ogni cosa che sta ostacolando perché in realtà l'abbondanza partiamo da dalla radice delle cose no non è solo per ottenere ma va anche a distruggere tutto quello che sta ostacolando il vostro raggiungimento dell'abbondanza quindi va bene per l'abbondanza ma va bene anche per recuperare tutte le vostre capacità che avete sempre per chi ha ben presente chiaro e ha capito ha meritato sul concetto di multidimensionalità e di tutte queste dimensioni che abbiamo no come dice anche crayon di cui ogni tanto vi dico anche le canalizzazioni di questa entità del servizio magnetico terrestre che si chiama crayon che dice appunto che i nostri sei multidimensionati multidimensionali oltre alla presenza io sono che comunque proprio il nostro sei superiore ma sono anche sparsi in varie dimensioni tutte le nostre conoscenze sono anche in quei sé ecco perché tante cose le sai fare e nessuno mai te le ha imparate perché perché già le sai perché le hai fatte in altre vite quindi andiamo oggi dopo vi metto alla fine uno dei miei oracoli ve lo metto in descrizione scritto ovviamente potete recitarlo sopra la mia voce anche per chi vuole per chi diciamo gradisce la velocità se no ve lo leggete dalla descrizione fate lo screenshot ve lo ricopiate fate voi eh allora io parto quando dirò io all'inizio la prima parola che dirò è io e farò qualche secondo di silenzio perché dopo io va il vostro nome e cognome va bene quindi dovete fare io e poi nome cognome e poi continuate la recitazione sopra le mie parole partiamo io rilascio ogni paura e ogni memoria cellulare correlata ad essa e che ho ereditato in ogni spazio tempo luogo o dimensione allontano con amore tutte le basse energie che mi bloccano in questa situazione e le dissolvo nella fiamma viola della trasmutazione con il mio dna multidimensionale recupero dal mio sé superiore tutte le componenti utili alla mia evoluzione presenti nelle varie dimensioni e le riporto nella mia vita ora integro la luce del mio sé libero da ogni paura in tutte le cellule del mio corpo qui ed ora programmo per me il fiorire di tutte le mie vere capacità espressive e la manifestazione di esse nella mia esistenza lo chiedo per il mio massimo bene evolutivo e così è grazie padre madre poiché tutto è già avvenuto non è bellissimo ragazzi ragazze è bellissimo allora questo è il cubo sacro proprio dell'arcangelo metatron dove si possono fare delle bellissime meditazioni come vedete li porta i colori dei sette chakra bene qui ci si possono posizionare anche che ne so avete le vostre pietre a casa posizionate va bene diciamo nei colori corrispondenti eccetera adesso qui faccio un po così velocemente però insomma possiamo anche mettere no per ogni per ogni colore del cubo tutte le pietre sopra insomma fate voi questo può anche non potete anche non metterci niente alla fine non è che c'è bisogno per forza però insomma è molto buono aiuta è anche semplicemente tenerlo incorniciarlo fargli qualcosa è questa la tormalina anguria adesso vediamo scegli carta 1 2 o 3 il consiglio per te oggi vediamo un po scegli intanto 1 2 o 3 e poi ti tiro giù la carta cosa c'era a dire adesso qui per sincronicità divina perfetta dalla mia amata magna presenza io sono per chi ha scelto la numero 1 per chi ha scelto la numero 2 per chi ha scelto la numero 3 andiamo subitissimo con la numero 1 mantieni la tua mente aperta 1 55 chi cerca trova ecco qua qua mantieni aperto perché forse qualcosa ancora deve arrivarti di informazione va bene di intuizione potresti venire a sapere a scoprire a capire tante cose che magari ancora non stai raggiungendo ma sei sulla strada magari va bene per il raggiungimento di queste cose quindi mi raccomando chi cerca trova perciò devi continuare mi raccomando continua mantieni sempre la mente aperta e soprattutto informati istruisciti ascolta anche questo video un'informazione in più la mente aperta vuol dire anche cercare le informazioni va bene quindi non pensare ma nessuno neanche tutti quanti non dobbiamo mai pensare di sapertutto perché c'è sempre della conoscenza ancora per noi che possiamo acquisire va bene carta 1 carta 2 chi ha scelto la 2 la fortuna è dalla tua parte continua così perché stai facendo bene 4 4 7 4 7 7 mantieni i tuoi pensieri focalizzati va bene i numeri lo ripeto perché me lo chiedete sempre ma l'ho detto già i numeri sono indicazioni sincronicità perfette potrebbero essere i vostri numeri familiari nascite date numeri civici numeri di target appartamento numero insomma tante cose il mese il giorno quindi segnatevi questi numeri ricordateli perché come dico qualche volta questo per esempio il fondamentale un 4 un 7 un 44 un 77 se trovate un numero civico con quel numero magari quel numero lì quel civico lì è più fortunato di un altro va bene questa è questa bisogna capirla da noi questa questa cosa questa fortuna è quindi qua complimenti perché comunque c'è la fortuna dalla tua parte stai facendo bene stai facendo un buon lavoro rimani focalizzata o focalizzato perché qua probabilmente abbiamo qualcuno che sta anche lavorando su di sé perciò ci dice stai facendo bene e continua così perché la focalizzazione è un lavoro non è che possiamo stare focalizzati 24 ore al giorno no abbiamo quelle quel tempo di focalizzazione massimo e poi tendiamo a lasciare ma è umano è normale allora poi la carta numero 3 vediamo la chiusura di un ciclo è necessaria ed inevitabile chiede l'universo di aiutarti 0808 quindi qua ci abbiamo da finire da chiudere da buttare via da lasciar perdere quindi necessario inevitabile è per te che ascolti va bene un nuovo inizio devi per forza chiudere qualcosa non lasciare l'energia vecchia non lasciare l'energia diciamo imputridirsi in questioni situazioni persone che ormai non o non la meritano più va bene o hai dato quello che potevi dare ed è finita così non c'è da angustiarsi quando finisce qualcosa perché fa parte del nostro percorso magari per quel tot anni era da vivere in quel modo ora no non è che perché uno una cosa l'ha fatta sempre questo è un concetto fondamentale in energia che spiego sempre anche ai miei studenti ma lo so che ci vuole a integrarlo non è che perché una cosa è andata sempre così è avvenuto sempre così allora vuol dire che deve essere sempre così va bene so che dura però questo è il primo passo per non per non riuscire poi a sistemare le cose se le cose si vogliono sistemare c'è da chiudere qualcosa per aprirne un'altra è necessario inevitabile chiede all'universo di sostenerti ti dice qua chiede all'universo di sostenerti chiedi chiedete chiedete qui c'è da chiedere chiedere domandare non è che possiamo no essere così come dire tranquilli che tanto ci aiuta non è che tanto tanto però chi chiede sicuramente sì c'è da chiedere e poi anche la risposta non è che c'è da stargli aspettare l'orologio che arriva sta risposta questo vale per tutti e non solo la carta 3 c'è da chiedere e lasciare andare chiedere e lasciare andare chiedere e lasciare andare così funziona non ci si può pensare poi tutti i giorni bene quindi qua comunque sono dei bei messaggi e bei messaggi diversi l'uno dall'altro ma belli se li hai ascoltati tutti e tre magari si vede che insomma che deve essere così non vi preoccupate recitate questo bellissimo mantra di metatron che non è solo per l'abbondanza ma è proprio per uno sblocco va bene anche delle vostre capacità di cose che ancora non avete capito di voi stessi della vostra vita andiamo a recuperare dei vostri sé multidimensionali che sono sparsi anche in altre dimensioni vi ricordate quando nei video vi dico che magari qualcosa della vostra vita è già manifestato in quinta dimensione va bene però nella terza no perché perché la terza è pesante è duale è massiccia è pesante quindi le multidimensioni le altre dimensioni a volte hanno già le nostre risposte che poi siamo sempre noi perché sono i nostri sé va bene i nostri sé multidimensionali ricordatevi all'inizio di questo mantra troppo la parola io ci vuole il vostro nome e cognome allora per questo video è tutto guardatevi altri contenuti di crescita personale perché su questi canali su questo canale ce ne sono molti vedete anche le playlist dove li metto tutti belli insieme così chi vuol sentire solo quelli ascolta solo questo tipo di contenuti vi mando un grande abbraccio iscrivetevi al canale seguitemi nei social e vedete tutte le mie informazioni nel box sotto il video io vi ringrazio tanto vi mando un grande abbraccio ciao presto